Un colore o la negazione dello stesso è il nero che si impone nei dipinti al centro di una mostra allestita alla Galleria Officina Solare di Termoli ed è anche il senso delle opere realizzate da Pasquale Nero Galante che sceglie dei volti, dei fiori o semplicemente il tronco di un albero per lasciarsi andare con carattere e incisività nella sua indole artistica impressa nei lavori, pittura espressione di un'idea della vita e del significato dell'essere, capace di richiamare e fermare l'osservatore davanti a una duplice lettura. Nelle sue opere tende più a nascondere o a svelare? Il discorso in qualche modo è semplice, trovi un punto di sospensione in cui l'immagine per pudore tende a non evidenziarsi, quindi in qualche modo mantiene il senso della misura, lo svelamento e il disvelamento è connaturato a quel punto di sospensione che normalmente si verifica in un'immagine, nello specifico nelle mie immagini. La parte critica della mostra, l'opera al nero, è stata curata da Angelo Andriolo, Tommaso Evangelista e Francesco Giulio Farachi in collaborazione con la Galleria Arsi Magodei di Roma. L'artista salentino di Carovigno vive e lavora nella capitale da molti anni e ha raccolto con piacere l'invito di Nino Barone, responsabile dello spazio espositivo di Termoli. L'indefinita pittura di Galante, evidenziano i critici, ritorna al concetto di limitazione del mezzo pittorico che va di pari passo con l'esaspirazione degli effetti luministici sulla tela, trattata come uno specchio sporco e corroso della realtà. Per visitare la mostra in Via Marconi 2 c'è tempo fino al 13 dicembre.